Musica Un bel negozio con buona roba da vestire, ci sarà possibilità per i ragazzi di comprare, adesso qua è pieno di gente Un negozio molto grande, ha una vasta scelta di abbigliamento e roba da vestire Musica Sono andato a Torino, anche lì un bel negozio e qua trovo che anche qua c'è una vasta scelta di vestiti Poi vestiti molto alla moda, prendi, spericciate Un negozio carino, abbastanza spazioso, su tre piani e i prezzi sono abbastanza ragionevoli secondo me Primo negozio che vende roba da maschio, che è una roba di qualità che costa poco, quindi sono contento Questo negozio ha dato possibilità a persone di lavorare, quindi è stata una bella innovazione per Puno E appunto, meno male che ogni tanto aprono negozi nuovi, perché lavora giovani Porterà secondo me molto lavoro, perché comunque non ha prezzi molto alti, quindi anche alla portata di molta più gente Quindi penso sia buono Grazie mille